Dal 4 gennaio apriranno le iscrizioni per le scuole dell'infanzia comunali e statali ai bambini nati nel 2018 per l'anno scolastico 2021-2022. Lo fa sapere Samuele Mascarin, assessore ai servizi educativi del comune di Fano, il quale in collaborazione con le dirigenze scolastiche del territorio ha comunicato che le domande di iscrizione resteranno aperte fino al 25 gennaio. Sarà possibile iscriversi attraverso il portale online presente sul sito istituzionale del comune di Fano, quindi comune.fano.pu.it e fare tutte le procedure di iscrizione quindi con questa interfaccia multimediale. Sul sito del comune di Fano inoltre i genitori dei nuovi alunni potranno trovare degli open day virtuali organizzati per dare la possibilità alle famiglie di conoscere al meglio e visitare la scuola scelta per i propri bambini. Per quanto riguarda le iscrizioni invece sarà possibile oltre alla modalità online presentarle previo appuntamento agli uffici dei servizi educativi situati in piazzale della stazione 7 oppure contattando le segreterie delle dirigenze scolastiche in sola impressione. Abbiamo sul nostro territorio 7 scuole dell'infanzia comunali e 13 statali. Le iscrizioni si possono quindi anche a titolo di informazioni da raccogliere, rivolgere sia agli uffici dei servizi educativi del comune di Fano sia alle dirigenze scolastiche degli istituti statali. Per quanto riguarda i servizi educativi i riferimenti sono a livello telefonico 887 607, 887 608, 887 611.